Cosa succederà nella nostra regione? Veramente i contagi persistono in tutta Italia e la Sicilia è una delle regioni in cui si sta meglio. Se poi vogliamo essere nemici di noi stessi, facciamolo pure. Siamo in attesa di conoscere quale sarà la natura del provvedimento del governo, almeno nei dettagli. Noi siamo d'accordo sul fatto che non bisogna abbassare la guardia. In questo momento il calo di tensione determinerebbe inesorabilmente un passo indietro. Se questo avverrà nelle giornate delle festività pasquali, potremo immaginare subito dopo una graduale ma inarrestabile riapertura. Noi abbiamo un leggero aumento di contagi, abbiamo registrato negli ultimi tre giorni, ma se penso ai numeri di due mesi fa, quando si arrivava a 2000 contagi al giorno, mi viene da pensare che ci sia stata e continua ad esserci una condotta collettiva improntata alla responsabilità. Vediamo quello che deciderà il governo nazionale. La misura credo sarà omogenea in tutta Italia. Noi siamo zona gialla e lo siamo ampiamente come zona gialla, ma essere prudenti non è mai troppo. Spero che nel frattempo possano arrivare i sostegni per gli operatori economici che potrebbero anche accettare un periodo di ulteriore chiusura, ma hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere. E mi sembra assolutamente fisiologico. Se i nuovi comuni sono in zona rossa, due nel palervitano, cosa prevedete per i prossimi giorni? Sì, quando il Dipartimento di Prevenzione da una parte e lo stesso Sindaco dall'altra parte evidenziano la necessità di dover richiudere, la firma dell'ordinanza per la zona rossa diventa inevitabile. Per fortuna si tratta di interventi a macchia di leopardo. Vogliamo augurarci che il fenomeno non si allarghi. Presidente, la Sicilia in rapporto alle dosi ricevute e quelle inoculate al quindicesimo posto in Italia è a rilento rispetto alle altre regioni o abbiamo conservato i vaccini per le seconde inoculazioni? È una condotta di prudenza la nostra. Se non avessimo adottato questa condotta, già nella prima fase dei vaccini non avremmo potuto fare il richiamo. Quindi siamo assolutamente sereni e tranquilli sul fatto di avere proceduto con tutto quello che potevamo avere a disposizione. Appena arriveranno le dosi necessarie, con i punti hub che abbiamo predisposto nelle nuove città capoluogo saremo in condizione di poter vaccinare anche 20.000 persone al giorno. Il personale è già mobilitato, le strutture sono già organizzate quindi sono convinto che manchi adesso soltanto per la disponibilità delle fiale e le notizie che arrivano da Roma o da Bruxelles in questo momento non sembrano essere incoraggianti.